Andare in vacanza, restando alla terza con una variegata offerta di eventi per adulti e bambini. Potrebbe essere questa la sintesi della rassegna la terza estate 2016, presentata in conferenza stampa dal sindaco Gianfranco Lopane e dal consigliere Rocco Danzi, titolare della delega alla cultura. Una cinquantina gli eventi in cartellone per una spesa di circa 90 mila euro, spaziando dalla gastronomia con le sagre dell'arrosto e della pizza, al paesaggio con svilupparco, passando dalla cultura con l'interessante festival della terra delle gravine. Ma la terza estate vuole essere anche un'opportunità per i visitatori di conoscere la terza, come ci racconta il consigliere Rocco Danzi. Un invito ai forestieri, a chi viene da fuori, a venire a scoprire, a visitare il nostro territorio, approfittando di questi eventi, al tempo stesso visitando le nostre bellezze storiche, il nostro museo e degustando i prodotti di enogastronomia. È un cartellone a 360 gradi che punta sia ai lertini che ai forestieri, ai cittadini dei paesi limitrofi e anche a chi eventualmente, di passaggio magari da Matera o da Martina Franca, vuole scoprire delle cose nuove. Puntare dunque sulla cultura non solo come occasione di conoscenza, ma anche per favorire lo sviluppo economico. Un aspetto questo sottolineato dal sindaco Lopane. Ormai la cultura, anche da letteratura, viene considerata come un volano importante di economia. Nell'ultimo rapporto di, io sono cultura, il rapporto di simbola e di union camere, si dimostra ormai evidente l'effetto moltiplicatore degli eventi, delle iniziative culturali. Appare a 1,8 rispetto a ogni euro investito che produce altrettanti economie negli altri settori. Per cui per noi è assolutamente importante investire in un settore che può essere trainante per un'intera economia.